ciao sono appena stata allo stupa qui a sedona non so se puoi vedere la cupola in lontananza è veramente un posto magico di grande grande pace è un luogo dove questo stupa rappresenta il corpo di buddha dove si possono fare delle richieste e delle preghiere il rito dice che puoi lasciare un oggetto un oggetto grazioso carino come offerta per il buddha e poi iniziare con mantra o con una preghiera con delle belle intenzioni e girare attorno a questo stupa almeno almeno tre volte bene mentre mi stavo preparando a questa pratica sono entrata in meditazione ed è successa una cosa molto particolare ho iniziato a vedere il pavimento e l'ambiente attorno a me diventare energia e vedevo proprio il suolo il terreno la gheia del terreno muoversi come se fosse pure energia e movimento ed è stato veramente molto molto particolare come cosa e in questo luogo veramente c'è una pace incredibile infatti non riesco ad alzare la voce perché come se ci fosse una certa sacralità da mantenere e l'intenzione che ho chiesto che ho lanciato ovviamente era qualcosa di benefico per tutti gli esseri umani e ovviamente compreso te che mi stai guardando e seguendo e se ti puoi connettere con questa intenzione proprio di ricevere questa pace sono sicura che aprendo il tuo cuore la riceverai un abbraccio ciao